A lì fa di quest'anno Lenovo punta molto sulla tecnologia multimode, cosa vuol dire multimode? Vuol dire la possibilità di utilizzare uno stesso device in diverse modalità, l'esempio più eclatante è Lenovo Yoga, 11 pollici, 13 pollici, che può essere utilizzato in quattro diverse modalità, lo vediamo che si presenta come un notebook tradizionale, super sottile, super leggero chiaramente con display touchscreen, ma semplicemente ruotando lo schermo indietro si può utilizzare della modalità stand, quindi appoggiando la tastiera sul tavolo e chiaramente si può sfruttare il touch in questa modalità, oppure se è più comodo anche per poter avere una maggiore stabilità al tocco, abbiamo la modalità tenda, quindi la modalità tent come viene definita, fino ad arrivare a una rotazione a 360 gradi alla modalità tablet, dove quindi abbiamo un notebook che si trasforma completamente in un tablet, quattro modalità in un unico device, multimode anche con due modalità nel notebook, flex, è la nostra novità per quanto riguarda il periodo natalizio, 14 pollici, 15 pollici, la particolarità come abbiamo detto adesso, sta nel fatto che è un notebook tradizionale, quindi con la classica connettività, porte USB, multi-car reader, tasto di accensione, dall'altro lato abbiamo la porta Ethernet, carica batterie, HDMI e un ulteriore USB, quindi abbiamo detto un notebook tradizionale, ma che si trasforma semplicemente spostando indietro il display in un comodissimo device touch, dove quindi avrò la stabilità di un display che si blocca a 300 gradi e di conseguenza io potrò continuare a lavorare e a giocare senza nessun tipo di problemi che lo schermo possa andare troppo indietro. Ecco, riducendo lo spazio della tastiera nella parte frontale si può meglio godere della tecnologia touch. Display, fino al full eye definition, quindi per la massima qualità delle immagini, sensore di luminosità, webcam integrata, tastiera ad isola all'interno di un palm rest in brushed metal, quindi metallo in alluminio zigrinato, è un prodotto che anche nei materiali fa la differenza con il nostro soft touch painting nella parte superiore, quindi che dà un senso di maggior resistenza e più sofficio attacco. Flex 15 è 15 pollici, 15 e 6 di diagonale, si differenzia rispetto al 14 pollici perché ha in aggiunta il tastierino numerico. Entrambi sono prodotti da 21 cm e 22 cm di spessore, con 2,2-2,3 kg di peso, oltre a queste differenze fisiche nel Flex 15 c'è anche la possibilità di una configurazione con grafica dedicata, quindi con i media GeForce con 1 GB di memoria dedicata. Abbiamo detto 14 e 15 pollici che si muoveranno per il periodo natalizio attorno ai 5-600 euro come posizionamenti suggeriti su piattaforma e Intel, quindi dal Pentium al Core i5 saranno disponibili nel periodo natalizio e pensiamo che questo possa essere veramente l'ultima possibilità, l'ultima tecnologia tecnologia per godere del touch su notebook.